Ecco a voi la decima parte del quinto capitolo della storia Il risveglio dell'oscurità di Tekken 8. Il vincitore è Jim Kazama. Ha battuto l'eroe Smith, l'ha sconfitto. Guardate chi c'è sullo schermo. Kazuya Mishima. Non lo sopporto, ne ho fin soprapelli di questo Kazuya. Basta con questo Kazuya. Noi dobbiamo distruggerlo. Che gli sta facendo al pubblico? In questo Colosseo, visto che siamo in Italia. Do you see your past sins in Kazuya Mishima? Ma tu chi sei? Diccelo. Sei? Sei Jim Kazama. Questo lo sappiamo. Se conosci te stesso e il tuo nemico, non sarai mai in pericolo. Fai come ti dice l'eroe. Credi in te stesso e guarda al futuro. Guardate cosa hanno fatto Panda, Siaio, Zaffina e Claudio. Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. È vero Claudio, succederà qualcosa di grosso. Che sono certo. La luce della stella rosa non potrà mai tornare. Vi devo lasciare. Vi saluto. Iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace. Mi fa piacere che avete visto anche sto video. Li sto facendo tutti per voi. Grazie. Grazie.